Lo saltiamo, sì! Stiamo saltando, stiamo saltando nel mondo natalizio e vai, finalmente è Natale! Questo aggiornamento di Natale è veramente una cosa spettacolare! Apriamo tutte queste uova! Oh, guardate quanto sono bugiose! Ciao amici, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti e attivate la campanellina per non perdervi nessun mio fantastico video. Ciao amici e benvenuti in questo nuovo fantastico video di Bubblegum Simulator! Questa serie vi sta piacendo veramente tantissimo, lo sapete appena raggiungiamo i 3000 mi piace, carica un altro bellissimo episodio, iscrivetevi al canale premendo il tasto rosso iscriviti così non vi perdete questa serie, è veramente pucciosissima! Allora, ci troviamo nell'aggiornamento di Natale, finalmente cito l'aggiornamento 4, l'update 4 e hanno aggiunto un mucchio di cose, veramente tantissime! E non vedo l'ora di farvele vedere perché hanno aggiunto tipo l'evento di Natale, hanno aggiunto tipo 3 uova fantastiche, guardate qua, sono queste 3 e non vedo l'ora di aprirle, hanno aggiunto un nuovo mondo e tipo 25 nuovi pezzi, qualcosa del genere, hanno aggiunto veramente tantissime cose! Sapete, nel precedente episodio abbiamo trovato questo bellissimo dragone leggendario, Inferno Dragon, abbiamo trovato il drago dell'inferno! Abbiamo l'unicorno veramente pucciosissimo che rimane il mio preferito, guardate che faccia, guardate che faccia che c'ha, sei veramente puccioso! E poi abbiamo il drago del Void che è veramente puccioso e molto molto cattivo, da come potete vedere dai suoi occhi, e non vedo l'ora di trovarmi il terzo petto leggendario per farvi l'esercito puccioso leggendario, non vedo l'ora! In questo episodio vi farò vedere tutte le cose che hanno aggiunto in questo nuovo aggiornamento, guardate qua la mia gomma da masticare al gusto di galassia, la facciamo veramente in 2 secondi, mio Dio, è veramente bellissima! Sì! Oh! Ma che cacchio, ma nevica da tutte le parti, nevica! Wow! Ma che bello il fatto che nevichi! Infatti, guardate quanta neve che c'è, tutto bianco, tutto bello! Mio Dio, siamo già 40.000, ma che cacchio è? Sono diventato velocissimo a fare queste gomme da masticare Mamma mia sono diventato super super veloce Scrivetemi nei commenti se vi sta piacendo ancora questa serie Perché se vi sta piacendo scrivetemelo nei commenti Anzi fate una cosa scrivete hashtag mi piace Così capisco che a voi piace questa bellissima serie pucciosa E così continuerò all'infinito Almeno finché escono tantissimi aggiornamenti bellissimi Io continuo volentieri Oh no ci siamo scontrati contro un altro Questo qua guarda quanto c'è la grossa 375 mila Oh mio dio ho già fatto 100 mila Oh mio dio Avete visto quanti soldi abbiamo Abbiamo tipo 8 milioni di soldi E abbiamo 8 milioni di gemme Infatti in questo episodio prenderemo un po' dell'uovo uova che hanno aggiunto Che sono queste 3 E vedremo se riusciamo a trovare subito il leggendario Ma sarà quasi impossibile Adesso abici miei Andiamo subito a vedere che lo scusato Ho aggiunto di nuovo in questo nuovo fantastico aggiornamento Raccolgo un po' di monete veramente preziose Così i miei compagni di squadra salgono di livello E così diventerò molto più forti Allora per prima cosa guardiamo questa cosa qui Evento Cos'è questa cosa qui Oh Dove sono andato Aiuto Cos'è questo posto Oh ecco le uova Oddio Queste qua sono le nuove uova Fantastico Ma aspettate Manca la musichetta Dov'è la musichetta No Dov'è la musichetta Wow Ci sono 4 nuovi mondi Cioè io pensavo fosse un unico mondo di Natale Invece secondo me ce ne sono 4 Ce ne sono tantissimi Oh mio dio Guarda là Hanno fatto tantissime cose in questo nuovo aggiornamento E qui Non abbiamo i soldi Ma abbiamo queste cose qua di zucchero Che non mi viene mai in mente il loro nome Come si chiamano Fantastico I candy Candy canes Wow E quindi adesso cosa facciamo qua Guarda qua c'è anche tipo un uovo speciale Che tipo ti dà sicuro sicuro un leggendario al 100% Però costo 7000 robux Ma questi qua sono dei pazzi Questi sono dei pazzi Costo troppo Ah vedete qua Per aprire queste uova abbiamo bisogno di queste candy canes E le candy canes o le possiamo acquistare ovviamente con i robux O tipo raccoglierle Quindi sapete un po' che cosa facciamo Cerchiamo un po' di farmare le candy canes Tanto qui sotto ce ne sono tantissime Guardate qua Ce ne sono veramente tantissime Facciamo più esperienza Oddio qua facciamo anche più esperienza con i nostri pet Quindi potrebbero salire velocemente di livello Oh sentite Oh finalmente c'è la canzoncina di sottofondo Che bello Si C'è la canzoncina di sottofondo Avete sentito Allora c'era la canzoncina Semplicemente era Era un po' buggata all'inizio Oh fantastico Eccola qui Una nuova canzone per questo bel mondo natalizio Chissà se vedremo Babbo Natale nell'ultimo mondo Probabilmente si Questo nuovo aggiornamento è veramente bellissimo Mi piace tanto Mamma mia Veramente Sono veramente bravi questi qua Questi sviluppatori di questo gioco Bubblegum Simulator Sono bravissimi a fare gli aggiornamenti Infatti è una cosa fantastica Ma adesso torniamo due secondi a casa Perché voglio cercare di vedere se ci hanno aggiunto qualcosa di strano In questo posto Infatti adesso noi ce ne andiamo subito Aspettate Per prima cosa andiamo ad aprirci le ceste Oh Guarda questo C'ha i dominus Elettrici Bellissimo Allora per prima cosa Noi andiamo subito ad aprire le ceste Che dobbiamo aprire Sapete noi abbiamo sempre da aprire le ceste fantastiche E qua sapete che avevamo tipo trovato quasi tutto Guardate qua Ci manca questo leggendario Che peccato E ci mancano questi due leggendari Perché sono difficilissimi da trovare Allora apriamo la cesta Per prenderci tanti soldi E tante gemme Così poi facciamo qualcosa Anche nel prossimo episodio Perché nel prossimo episodio Vorrei tanto trovare qualche leggendario di Natale Vi immaginate Trovo un leggendario di Natalizio Bababia Un pet leggendario di Natale Sarebbe veramente una figata 4 milioni Oh mio dio Sono tantissimi Perfetto Adesso apriamo la seconda cesta Che dovrebbe essere da questa parte Sinceramente non mi ricordo Dove c'è la cesta Ecco non è da questa parte Ho sbagliato Ho sbagliato tutto Deve essere tipo questo portale qui Sì proprio questo portale Credo Credo eh Sì eccola qua La godly chest Wow 4 milioni di gemme Mamma mia Se questi pet leggendari Mi danno tanti soldi Fantastico Andiamo subito a vedere Nel prossimo portale Che ci dovrebbe essere Secondo me L'altra cesta Che non mi ricordo sinceramente Sì 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 C'è la void chest Sì Raccogliamo tutti questi gemme Oh mio dio Quanto abbiamo fatto 12 milioni 10 milioni Oh mio dio Qua invece avete visto che ci mancano Questi due leggendari E qua ci mancano ancora Tutti i due leggendari Le cose epiche Mamma mia È veramente difficilissimo Trovare leggendari È già tanto che ho trovato Questo bellissimo draco di fuoco E questo bellissimo unicorno Guardate questo C'ha i dominus elettrici Wow Sono cattivissimi Wow che belli Sono veramente bellissimi Cacchio Allora cerchiamo adesso Di tornare un secondo indietro Che voglio fare qualcosa di figo Voglio trovare qualcosa di figo Ah sì Andiamo subito dal mondo Dello zen E vediamo un po' Di cercare di Comprare un nuovo gusto Sapete che cosa potrei fare? Nel mondo dello zen Che è proprio questo qua Bellissimo Posso scambiare le mie gemme Per soldi Sapete quanti soldi faccio Con 23 milioni di gemme? Cioè tipo farò tipo 200 milioni di soldi Credo Non ne sono sicuro Credo di fare questi soldi qua Però non sono sicuro Di darvi tutte queste bellissime gemme Abbiamo 24 milioni di gemme Sinceramente Voglio tenermele queste gemme Perché forse aprirò Tantissime 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 uova E quindi per adesso Rimaniamo in questo modo Non facciamo niente Perché abbiamo già tanti soldi Siamo tanti Tanto 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 ricchi E sinceramente Non ho bisogno di niente Quarta qua è vero Qua facciamo ancora più esperienza Mi sa che qualche pet Sia di tutto di livello Infatti qua guardate Fanno 35 15 di esperienza E con le ceste Fanno ancora più esperienza Fantastico È vero Dobbiamo cercare di farmare Così questi pets Quando salgono di livello Diventano ancora Ancora più forti Scusate se sto parlando Tanto di questo aggiornamento Ma che ci sono tante cose Tante cose da fare Adesso Boom Adesso andiamo E cerchiamo Di iniziare questo evento Natalizio Così scopriamo il primo mondo In questo primo video E così riusciamo Ad aprire qualche bellissimo uovo Chissà Vi immaginate Forse troviamo anche un pet leggendario Sarebbe veramente Fighissimo Se vorreste vedere altri video Subito di PopGam Simulator Raggiungiamo i 3000 mi piace E iscrivetevi al canale Premendo il tasto Non si iscriviti Se vi iscrivete al canale Arriviamo ai milioni di iscritti Vi immaginate Arbacazzino ai milioni di iscritti Beh sarebbe bellissimo Sinceramente Mi piacerebbe tantissimo Però sarebbe una cosa fantastica Sì Dai raccogliamo tutte queste bellissime gemme E cominciamo subito a raccogliere le candy cane Allora per prima cosa Fai Cominciamo a fare la gomma da masticare Perché dovremmo salire e saltare tantissimo Tanto tanto in alto in alto Perché dobbiamo raggiungere il primo mondo Chissà in questi mondi che cosa c'è Perché se già qua ci sono le uova Non so da sopra cosa ci potrebbe essere Saliamo Saltiamo Sì Stiamo saltando Stiamo saltando il mondo natalizio E vai Finalmente è Natale Sì Voglio tutti i regali Voglio tutti i regali Voglio tantissime gemme gratuite Uh che bello Guarda qua Guarda qua che cosa abbiamo Bello Tantissime Wow A parte che è difficile farle queste cose qua Queste candy cane Comunque il primo mondo è facilissimo da raggiungere Infatti l'ho già quasi raggiunto Pazzesco Vabbè Ho una gomma da masticare veramente in bensa Wow L'isola di Natale abbiamo raggiunto Ma che bella Che cosa ha Uh è vero Forse potremmo trovare una cesta in quell'isola di Natale Che figata Facciamo una cosa In questo episodio Mi sa che raggiungiamo anche il secondo La seconda isola Ah ma riceviamo dei regali Adesso ho capito Cosa vuoi piccolo puccioso Non riesco a parlare Non riesco a concentrarmi Quando vedo la tua faccina puccioso Stai Ma spostati Non riesco a concentrarmi Sei troppo puccioso Allora stavo dicendo Che tipo in questo mondo qua Cioè in questi mondi di Natale Se li raggiungiamo Riceviamo dei regali Giusto Quarta qua Vedete Possiamo ricevere dei pet Cos'è questa cosa qui Wow Mi sa che dobbiamo Oh Dobbiamo comprarli Con i candy canes Quindi dobbiamo raccoglierne un paio Facciamo una cosa Andiamo alla seconda isola Che forse la facciamo Ancora più candy canes E poi tramite i portali Ritorneremo in queste isole A raccogliere tutti i regali Bellissimi Ma sentite le musichette Quanto sono belle Ma sono veramente Pucciosissime Sono le musiche di Natale Mamma mia Veramente Dovrei congratularmi Con gli sviluppatori Perché fanno delle canzoni Veramente bellissime In questo gioco Non sto scherzando Sono veramente serio Infatti sono bellissime Infatti non metto neanche le mie Perché queste sono troppo Troppo belle Ecco qua le candy canes Mi sa che andando avanti Delle isole Forse riusciremo a fare più candy canes Sicuramente Tanto adesso qua Stiamo confiando Alla nostra camada a masticare Siamo già a 200.000 Il gusto galassia È uno dei gusti più belli Oh Guarda qui C'è la notte Aiuto Ho paura Ho paura Ho paura Aiuto Trampolino Guarda qui Ho 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 Jolly Island Abbiamo raggiunto L'isola di Jolly Guarda qua Una cesta piena di candy Sì Hai visto piccolo unicorno Possiamo ricevere Un mucchio Un mucchio di candy Bellissimi Bellissimi Sì Guarda qua 600 candy Fantastico Adesso sapete un po' Che faccio Cerco di tornare Due secondi giù Perché abbiamo già raccolto Abbastanza candy E mi sa che possiamo Prenderci il primo reward Nell'isola di Natale Infatti lì C'è un bel pet Che forse possiamo ricevere Il regalo Ma mi sa che Ah giusto Più spendiamo E più Sblochiamo degli slot Dei regali Fantastico Quindi dobbiamo semplicemente Fare la raccolta Di queste candy Perfetto Adesso facciamo una cosa Bellissima Vediamo Allora qua ci sono Queste uova qui Che Ok In questo uovo Possiamo trovare Un leggendario All'1% È un po' difficile Come potete vedere Qua Non ci sono leggendari Cosa Non ci sono leggendari No Guarda questo Questo uovo È veramente bellissimo Però questo qua Costa troppo 400.000 E poi c'è solo Lo 0,07% Di trovare un leggendario Quindi è molto difficile Mi sa che apriremo Queste qua Queste uova Qua di Natale Queste qua sono bellissime Perché queste ti danno Ti danno più Possibilità Di trovare un leggendario E non vedo l'ora di aprirle Però Vediamo un po' quanto costano Qua le Candy Canes Vediamo se spendiamo 500 Oh mio Dio Costa troppo Costano troppo Aiuto Costano veramente troppo Aiuto Ci vuole veramente tantissimo Non c'è un modo per scambiare Non c'è un modo per scambiare le monete Tipo le gemme in Candy Canes Forse sì Forse sì Ma tipo dobbiamo raggiungere L'ultima isola E quindi facciamo una cosa In questo episodio Cerchiamo di aprire Queste uova qui Le più semplici Perfetto Acquistiamo un po' Di Candy Canes Così possiamo cercare Di aprire un bel po' Di uova Perfetto 40 Robux Mi sembrano Accettabili E quindi Adesso apriamo subito Queste uova bellissime Questo aggiornamento Di Natale È veramente Una cosa spettacolare Apriamo tutte Queste uova Oh Guardate quanto Sono pucciose Wow Abbiamo trovato Allora Due cose Di Natale Come si chiamano Oh mio Dio Non riesco a parlare Non riesco a parlare Andiamo a vedere Che cosa abbiamo trovato Abbiamo trovato Dei pupazzi di neve Di Natale Come potete vedere E abbiamo trovato Un trago D'inverno Bello Molto molto bello Vedete Abbiamo già trovato Due cose epiche Ci manca quello raro E quello unico Perfetto Vai vai veloce Apriamole tutte Apriamo tutte Queste uova splendenti Oh Ma quanto si bello Abbiamo trovato Un coniglio di Natale Bellissimo Bello 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 Quello lo voglio equipaggiare Subito Ma guardate quanto Spuccioso Allora Non dà nessun Cioè Veramente Veramente Bassissimo Di statistiche Ma noi cercheremo Semplicemente Di guardarlo Perché è troppo Puccioso Sei veramente Pucciosissimo Tu hai capito Sei veramente Pucciosissimo Tu Santa Patti Oh Che bello Un coniglio di Natale Ma quanto è Puccioso Questo coso qui È bellissimo Questo mi piace tanto Perché mi ricorda Tanto lui L'unicorno Guarda Guarda che bello Semplicemente Non è pro leggendario Che peccato Quindi adesso Torniamo Torniamolo a due secondi Perché ovviamente Facciamo molte Molte più esperienze Con questo Void Debon Ecco qua Lo equipaggiiamo Subito E adesso Apriamo subito Altre uova fantastiche Perché voglio trovare Tutti i pet possibili Oh Abbiamo trovato Il toro di Natale Avete visto Oh che bello Li abbiamo trovati Quasi tutti Ci manca semplicemente Quello raro Ma che bello Abbiamo trovato Il toro di Natale Ma guardate qua Quanto è bello Sì Abbiamo trovato Il toro di Natale Però Sono sicuro Che i pet Leggendari Di Natale Saranno bellissimi E infatti Non vedo L'ora di trovare Mi sa che abbiamo trovato Anche l'ultimo Sì infatti L'ultimo Era la volpe di Natale Li abbiamo già trovati Tutti Pazzesco Siamo stati Veramente Velocissimi Velocissimi Spero che questo Primo video Dell'aggiornamento 4 Dell'update 4 Vi sia piaciuto Questo aggiornamento Di Natale È veramente bellissimo E ci sono ancora Tante cose Che dobbiamo scoprire Tante uova Bellissime Da aprire Se vorreste Vedere un altro Episodio Subito raggiungiamo I 3000 Mi piace Iscrivetevi Al canale Premendo il tasto Lo s'iscriviti E niente Ci vediamo A un prossimo episodio Ciao ciao